Bravo sei, in silenzio radio le mie collaborazioni in controller se volete fare un controller come volete voi completamente personalizzato trovate il codice sconto eneba.com se cercate videogiochi del passato dovete comprare videogiochi nuovi abbonamenti a prezzi scontati chi più ne ha più ne mette anche qui troverete il codice sconto per risparmiare ulteriori soldi ma non ci perdiamo in chiacchiere partiamo subito con il TG Code continuano le indiscrizioni su quello che sarà appunto il nuovo sequel DMV 2019 nelle ultime ore è tornata a parlarne The Ghost of Hope che ha svelato appunto uno dei primi contenuti del gioco ha detto che secondo le sue informazioni anche sul nuovo MV2 troveremo il sistema Trophy quindi questo potenziamento da cap è confermato che lo ritroveremo come un field upgrade all'interno di MV2 come sapete il mese di aprile ci porterà non soltanto la season 3 ma anche Snoop Dogg infatti il blog ufficiale di Call of Duty ha confermato che il personaggio il noto rapper ha registrato le proprie battute vocali per il suo operatore ecco quello che è stato riportato sul sito la voce di Snoop con tutte le battute registrate per il suo stesso operatore torneranno su Call of Duty nel pacchetto operatore per Vanguard e per Warzone vi ricordo che ci sarà anche una versione per Code Mobile al momento le date sono state confermate come 1 aprile su Code Mobile e 19 aprile su Vanguard e Warzone poi scopriremo bene nel dettaglio il bundle l'immagine ve l'ho fatta vedere ma scopriremo anche le armi che conterrà il dataminer Alex invece nelle ultime ore insieme agli altri insider reality ha dichiarato che le nuove mappe multiplayer VMD e Jungle che come sapete deve ancora arrivare sono soltanto l'inizio delle novità per Black Ops Cold War ha specificato che dovremo attenderci altri nuovi contenuti multiplayer e zombies e su quest'ultimo aspetto aggiunge che ci potrebbe essere anche la possibilità di vedere Transit, Die Rise e Buried su Cold War prima che praticamente si arrivi alla fine del ciclo vitale del gioco inoltre precisa che Transit dovrebbe addirittura arrivare in versione Outbreak quindi in versione Epidemia data alla sua grandezza vi ricordo come sempre il mio profilo Twitter ragazzi che è importantissimo perché li riesca a riportare immagini leaks e quant'altro in anteprima quindi come sempre se avete Instagram e Twitter seguitemi su questi due social secondo un nuovo articolo invece di Axios 15 sviluppatori di Raven Software hanno inviato una lettera al CEO di Microsoft chiedendo la sua posizione su Activision Blizzard che non ne riconosce la loro unione Microsoft ha risposto ad Axios che non si opporrà riconoscimento da parte di Activision Blizzard dei sindacati interni quindi continuano appunto le agitazioni all'interno appunto di Activision Blizzard in attesa dell'acquisizione da parte di Microsoft vi faccio vedere una cosa molto curiosa Ashley Wise per chi non lo sapesse era un ex o meglio ormai è diventata ex influencer relationship per Call of Duty annunciato proprio di aver lasciato la sua figura la sua posizione in Activision nel ringraziare i team di sviluppo i suoi colleghi lancia una bella bombettina su appunto Bobby Kotick senza appunto nominarlo sentite che bombetta ha sganciato Ashley non lasciate che i fallimenti della dirigenza distorcano la vostra attenzione la vostra opinione sul lavoro di così tante persone dedicate e meravigliose quindi una bella bomba praticamente ai capi di Activision e quindi parliamo principalmente di Bobby Kotick relativamente alla questione della gestione di Call of Duty degli ultimi anni la cosa è veramente bella su cosa? fatemi sapere qui sotto nei commenti ma ieri mentre eravamo in live grazie ragazzi ieri eravate in tantissimo come sempre iscrivetevi sulla mia piattaforma Viola tutti i giorni sono in live dalle 13.30 alle 15 in pausa lavoro oggi purtroppo non ci sarò appunto per motivi lavorativi ma avete chiesto ieri proprio o ve l'aspettavate tante novità relativamente a Vanguard in merito appunto alla versione gratuita se ci sarà il multiplayer se ci sarà Zombies e vi dicendo bene ieri sera è arrivato l'annuncio ufficiale quindi mettetevi comodi vi spiego come potrete giocare Vanguard nella versione gratuita allora dal 30 di marzo quindi da domani sera ore 19 fino al 13 aprile quindi ragazzi hanno messo due settimane di Vanguard in prova gratuita qualcosa di mai visto prima appunto per un Call of Duty si potrà provare Vanguard multiplayer gratuitamente incluse le nuove mappe della seconda stagione una nuova modalità obiettivo e una playlist in primo piano che offre anche una varietà delle mappe più popolari del gioco quindi al momento è stato confermato ufficialmente che potremmo provare soltanto il multiplayer niente a che vedere per quanto riguarda appunto la modalità Zombies ma adesso vi spiego bene tutti i contenuti allora durante il periodo di accesso gratuito vi ricordo 30 marzo 13 aprile i giocatori potranno direttamente accedere alle ultime mappe molti giocatori lanciate con la season 2 quindi parliamo principalmente di Casablanca e di Gondola Casablanca è una mappa ambientata nel Marocco una mappa di media dimensione a tre corsie all'interno di un vivace mercato con diversi edifici da esplorare e su cui ci possiamo arrampicare mentre Gondola una mappa a tre corsie potremo fare un giro in Gondola per viaggiare sopra una grande gola ed una torre di avvistamento antincendio e gli operatori potranno anche sfruttare la lunga visuale fornita da questo percorso in Gondola o dirigersi verso la centrale elettrica e le grotte per le battaglie più ravvicinate ma vi ho detto che avrete anche la possibilità di giocare una nuova modalità come sapete con la Season 2 Reload è stata introdotta praticamente la modalità corsa agli armamenti bene in questa prova gratuita avremo la possibilità di giocare la mappa a grandi dimensioni ambientata nelle Alpi con i nuovi veicoli e un nuovo obiettivo quindi conquistare le basi una volta che una base è stata catturata gli operatori potranno scegliere di respawnare in quella base o in quella di un altro punto catturato sulla mappa oltre a spawnare sul loro lato di scampagni di squadra le basi impostano automaticamente i cancelli per la squadra in difesa all'interno consentendo anche un passaggio sicuro per gli alleati e chiudendosi quando i nemici si trovano nelle distanze ogni base amica come ve l'avevo già spiegato prima del revia appunto della corsa agli armamenti avrà la possibilità di avere delle stazioni di acquisto per armamenti e abilità aggiuntive inclusi veicoli per aiutarci ad attraversare la mappa più rapidamente inoltre potremo utilizzare il denaro guadagnato catturando obiettivi raccogliendo dai giocatori nemici morti per acquistare altri armi equipaggiamenti serie di uccisioni potenziamenti sul campo ma addirittura anche personalizzare i nostri equipaggiamenti oltre alle mappe e alla modalità che vi stavo dicendo corsa agli armamenti i giocatori con l'accesso gratuito potranno anche tuffarsi in una playlist moltigiocatore diversificata con le mappe più popolari di vanguard quindi parliamo principalmente di shipment parliamo di das house e un'altra piccola mappa che favorisce molta azione per i giocatori ad accesso gratuito che vogliono essere nel vivo appunto dell'azione questa sarà la lista perfetta per sbloccare armi ma soprattutto per livellarle inoltre vanguard include anche altre mappe come hotel royale dome radar che possono essere giocate invece nella modalità dominio nella modalità controllo e nella modalità postazione vi ricordo accesso gratuito multigiocatore di zombies non ne hanno minimamente parlato che inizia domani sera ore 19 e termina il 13 di aprile due settimane di multiplayer gratis questo era tutto quello che volevo dire il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty un bel mi piace iscrivete su tutti i miei social instagram e twitter le mie collaborazioni e in controllers e in eba.com trovate i codici sconti in descrizione noi ci vediamo invece domani ore 7 qui su youtube con un nuovo T G cod grazie a tutti Grazie a tutti.